Il primo maggio è legato alla storica conquista sindacale della giornata lavorativa di otto ore, ottenuta grazie all'azione concertata dei lavoratori a livello internazionale. Oggi per molti lavoratori, specie in Occidente, il suo significato internazionale e internazionalista si è offuscato. In molti paesi il primo maggio è diventato una giornata festiva, condita di concerti e sfilate piuttosto rituali, ma negli Stati Uniti, nonostante il successo della campagna sulle otto ore, non è ufficialmente riconosciuto. Ciò nonostante, nel 2006, il primo maggio è stata una grandiosa giornata di lotta negli Stati Uniti per i diritti degli immigrati che sono scesi in piazza in un numero senza precedenti nella marcia nazionale Day Without an Immigrant, da Chicago a Los Angeles. Erano da soli un milione. Da allora i movimenti e le azioni di lotta degli immigrati si sono sviluppati in America e in tutto il mondo, dopo decenni di relativo silenzio. Il prossimo primo maggio prosegue le lotte dei portuali della West Coast in America e in altri porti del mondo e si connette con il movimento Occupy nella direzione di conquistare le piazze e nell'obiettivo di far sentire la potenza del numero di quel 99% che sente come indilazionabile l'obiettivo mondiale di uscire dal capitalismo. Il primo maggio dunque, pur non perdendo il suo significato storico di giornata dei lavoratori del mondo, solidali nella lotta per la conquista di migliori condizioni di vita e di lavoro, aggiunge un importante principio politico che lo riconnette direttamente all'appello del Manifesto del 1848, Proletari di tutto il mondo, unitevi. È un ulteriore tassello politico che emerge dal collasso del sistema capitalistico mondiale. Il capitalismo ha divinizzato la competizione e l'ha estesa su un mercato ormai veramente mondiale. Tutti i maggiori capitalisti del mondo, in perfida simbiosi col capitale finanziario, che nel loro insieme sono quell'1% additato dal movimento Occupy con tanta efficacia, competono fra loro spostando dalla tastiera di una scrivania ingenti capitali da una parte all'altra del pianeta, a caccia del maggior profitto. Lo possono e lo potranno fare finché riusciranno a fomentare la concorrenza anche e soprattutto tra i lavoratori, con le enormi differenze salariali, con la connivenza degli apparati statali a loro servizio, con quell'enorme banchetto del profitto che sono le guerre alimentate ad arte dalla competizione nazionalista condita persino di razzismi e odi religiosi. I lavoratori stanno prendendo coscienza, in maniera diffusa e accelerata, come mai prima ad ora, che soltanto la loro unità in quanto lavoratori, al di là delle artificiose barriere di nazionalità, di etnia, di religione e di piccoli interessi individualistici politici o sindacali, può costituire una forza in grado di piegare il cinismo brutale del parassitismo cannibalesco e vorace che ormai corrode il corpo sociale e avvilisce la natura. Questa presa di coscienza, di fatto internazionalista perché di classe, può costituire l'unico argine alla degenerazione che pervade anche le antiche istituzioni che gli operai si erano storicamente date, come i sindacati e i partiti, sprofondati ovunque sempre più e in modo sempre più plateale nell'opportunismo e nel cretinismo parlamentaristico, fino a costituire l'ultimo baluardo del capitalismo contro l'ormai irrefrenabile sete di emancipazione che sale dal profondo della classe. Se in questo cammino verso la piena indipendenza politica e organizzativa, i lavoratori sapranno costruire loro stessi i propri strumenti aggregativi politici ed economici, dipenderà da quanto la loro unità sarà consapevole del carattere internazionale dei compiti strategici. Siamo consapevoli che l'unità dei lavoratori non è la somma del numero, cheppure è schiacciante, e non è un regalo ma una conquista che passa attraverso le coscienze dei singoli, né è facile perché pone direttamente il problema del potere politico del capitalismo mondiale, sia pure in crisi, ma contro il quale bisognerà pure arrivare alla resa dei conti finale. Perciò la nostra azione non si ferma al primo maggio. Lavoriamo tutti per un più stretto collegamento dei lavoratori su scala mondiale. Auspichiamo un avanzamento nella consapevolezza che la lotta per un mondo migliore passa solo attraverso l'unità attiva e solidale dei lavoratori stessi, la loro lotta organizzata indipendente e autonoma contro lo sfruttamento e il parassitismo dilagante, contro il localismo e il nazionalismo guerrafondaio su scala planetaria. Avanti dunque col primo maggio di lotta internazionale. Grazie. 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 Grazie.